Completare le modifiche statutarie e poi arriveranno le dimissioni. La mission del Presidente del Consorzio Universitario Agrigentino Pietro Busetta è questa. Il massimo esponente del Consiglio di Amministrazione del CUA risponde alla CGL, in particolare al Segretario Generale Massimo Raso e al rappresentante sindacale Matteo Loraso per rassicurarli sulle sue dimissioni che arriveranno presto una volta completato, cioè l'iter delle modifiche allo Statuto del Consorzio che dovranno essere adeguate alla nuova legge regionale. regionale. Ringrazio il sindacato per le parole di apprezzamento, ha detto il professor Busetta, e per una eventuale mia riconferma, ma attualmente nei miei programmi c'è quello di accompagnare il Consorzio alle modifiche statutarie. Nel mese di luglio del 2018 è stata approvata la legge regionale numero 10 che ha subordinato alla modifica dell'assetto di governo dei Consorzi Universitari ai finanziamenti regionali. Per questa ragione il Presidente del CUA, Pietro Busetta, ha convocato la riunione dei soci in Assemblea straordinaria per il 17 gennaio alle 10, in prima chiamata, e alle 11 in seconda convocazione. L'Assemblea si terrà nei locali del Consorzio Universitario di Via Quartararo. Della convocazione è stato informato anche il Rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari. Lo statuto dovrà essere modificato per prevedere una diversa distribuzione dei posti di governo. La nuova normativa sui consorsi, che prevede una governance con un Presidente che sarà nominato dalla Regione, un consigliere nominato dall'Università di riferimento, cioè quella che avrà il maggior numero dei corsi, e un rappresentante eletto dai territori con una nomina che prevede una elezione pesata in base ai contributi dati. Una garanzia per Palermo, che avendo potere sulla struttura di comando e copertura delle risorse, si è già detta pronta a riaprire in città tre corsi di laurea. Questa è l'offerta formativa, Scienze dell'Educazione, Corso di Laurea Triennale, Architettura, anche in questo caso Corso di Laurea Triennale ed Economia, Corso di Laurea Triennale. Questi corsi si aggiungono ai già esistenti, quali il Corso di Laurea in Servizi Sociali e al Corso di Laurea Specialistica in Architettura, nonché a quelli in esaurimento, come beni culturali e giurisprudenza, al nuovissimo corso in mediazione linguistica e culturale.